Ed ora veniamo al parente misterioso. Si viene pettinato parente misterioso. Si suoni qualcosa parente misterioso. Si suoni qualcosa di più. Grazie a tutti. Mi dica, parente misterioso, qual è il suo desiderio più grande? Il mio desiderio più grande è che mia madre guarisse. Che anch'io guarissi, che trovassi un lavoro, così da potermi mantenere da solo, senza dover chiedere sempre soldi a mamma. Vabbè amici, fuori più avvio qui. Non mi sento bene, sono depresso, demoralizzato. Almeno sapessi suonare la chitarra. Quando guardo un tutorial mi prendo i nervi, lo levo subito. E sono diventato un caso umano, insomma. E qui mi si è rotto il cannello del cuore. E qui, questa casa cambia pezzi. Sono solo, senza lavoro, senza amici, va bene. Non so che l'ho voluto io. Perché, stando alle mie capacità, potevo avere un lavoro, degli amori, delle amicizie. Chissà cosa sarebbe prestato alla mia vita. E qui, stando alle mie capacità, potevo avere un lavoro, degli amici, va bene. E qui, stando alle mie capacità, potevo avere un lavoro, degli amici, va bene. E qui, stando alle mie capacità, potevo avere un lavoro, degli amici, va bene. Spero che questa sia... Sì, a direzione. Spero che questa sia... quello si vabbè amici buon pomeriggio